Caro il mio Pablo, ho un messaggio speciale per la tua nuova Miss. Ciao bevei, sono Alice, Miss Mondo Italia 2009, ti voglio fare le congratulazioni per questo titolo, per questa fascia. Passerai un anno straordinario con Pablo, Claudio e tutta la famiglia Gil Cagné. Complimenti, sei bellissima, sei internazionale, ti divertirai tantissimo. Mi dispiace molto non conoscerti dal vivo in questo momento perché sono via per lavoro e non posso essere a Gallipoli quest'anno, ma sono sicura che ci incontreremo presto. In bocca al lupo per domenica sera e un bacio a tutti, ciao!